In questo seminario di Simbola oggi parliamo anche delle regole sull'intelligenza artificiale che in questo momento sono tante, anche se la più conosciuta naturalmente è costituita dal cosiddetto AI Act, il Regolamento Europeo sull'intelligenza artificiale. Le regole sono molte, anche l'Italia sta emanando le sue con un apposito disegno di legge e lo scopo di queste regole ovviamente è quello di tutelare i valori fondamentali ma anche di cercare di incentivare l'innovazione. Queste regole sono complesse, bisogna aiutare le nostre imprese e le nostre organizzazioni a applicarle, bisogna trovare degli strumenti giuridici che rassicurino a riguardo come codici di autoregolamentazione, contratti, adeguamento della normativa privacy ma bisogna tanto tanto investire anche sulla educazione e sulla consapevolezza perché le regole sono importanti ma da sole non possono fare tutto.